Ha dell'incredibile la storia di quattro individui, due quarantenni e due ventenni, arrestati dai carabinieri di Cesena con delle gravissime accuse di sequestro di persona, furto in abitazione aggravato, violazione di domicilio, lesioni personali aggravate, violenza privata, minaccia grave e porto abusivo d'arma. I fatti risalgono la notte tra il 13 e il 14 aprile scorso, quando la banda irrompe nell'abitazione di una trentenne, iniziando a picchiare lei, il padre ed il fidanzato. Una violenza incredibile dovuta ad un presunto malocchio scagliato verso di loro. A seguito di due gravi episodi consumati qui in Cesena, nel corso di quale una giovane donna veniva portata con violenza fuori dalla propria abitazione condotta in un casolare abbandonato di Cesena, dove veniva fatto oggetto di maltrattamenti, la stessa veniva costretta a bere una bottiglia d'acqua bollente e invitata ad eseguire un rito di depurificazione dal malocchio, da uno dei malviventi, poiché la stessa era stata ritenuta responsabile di aver fatto il malocchio ad una giovane donna che faceva parte dello stesso gruppo criminale. Le immediate indagini condotte dal nucleo operativo di Cesena hanno portato all'immediata emissione da parte della Procura della Repubblica di Forlì di quattro misure restrittive custodia cautelare in carcere che sono state eseguite immediatamente da parte del personale del nucleo operativo di Cesena e gli stessi sono stati ristretti nella casa circondariale di Forlì.